Tra il 1922 e il 1934, l'archeologo inglese Leonard Hulley porta avanti una campagna di scavo nell'antica città irachena di Ur, da cui emergono reperti straordinari di arte sumerica. Tra questi, il cosiddetto stendardo, sulla cui funzione ancora oggi esistono solo delle ipotesi. Si tratta di un parallelepipedo formato da quattro pannelli lignei, decorati con raffigurazioni ottenute con pietre colorate su base di bitume. Tra queste, il preziosissimo lapislazzulo, la conchiglia e un calcare rosso di probabile provenienza indiana. Le due facce più grandi presentano una narrazione su tre registri, separati con fasce decorative, da leggersi da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto, per giungere fino alle figure centrali delle zone superiori. Un primo pannello pare raccontare una scena di guerra. Soldati su carri trainati da asini calpestano nemici feriti. Fanti in combattimenti catturano dei prigionieri, gli stessi che nel registro superiore vengono condotti al cospetto di un personaggio di evidente importanza. Nel secondo pannello, pacifici cortei di uomini e animali si dirigono ad un rito religioso o ad un banchetto, lo stesso forse che si svolge nel registro superiore. Lo stile della raffigurazione è bidimensionale. Non ci sono tentativi di resa della profondità, salvo nel caso dei carri trainati da asini. Se ne contano quattro, leggermente accostati per simularne la sovrapposizione. Le figure umane sono stilizzate secondo lo schema usato poi anche in Egitto, con volti e gambe di profilo e l'occhio e le spalle visti frontalmente. Non mancano però tocchi di espressionismo, nei particolari delle ferite sanguinanti dei nemici caduti in battaglia, o di realismo, visto che alcuni degli oggetti ritratti sono stati effettivamente ritrovati negli stessi scavi archeologici.